Ma la moglie del guardiano la notte mentre dormiva la Madonna li compariva che li diceva così signora vai a avvertire la mamma di quella bambina perché domani mattina quella bimba morirà perché domani mattina quella bimba morirà lì dirai di domandare in nome del Signore quel nobile fattore lui certo lo saprà quel nobile fattore lui certo lo saprà la povera mamma proprio in quel momento stava vicino il quadro della Madonna del Carmine che si rivolgeva con tutta l'anima per aiutarla a trovare la sua bambina diceva Madonna, Madonna mia, tu sola puoi aiutarmi ma mentre invocava queste parole si sente bussare alla porta una voce che chiamava con mare, con mare assunta, alzati presto la mamma che già alzata stava subito la porta apriva con mare proprio a quest'ora la Madonna mi compariva e la bimba mi parlava e tutto li raccontò quella donna chiama il marito e subito è andato il fattore ha trovato e lui rispose così il fattore ha trovato e lui rispose così e non date retta a sogni e nemmeno ai santi perché io non credo a niente e tranquillo camperò perché io non credo a niente e tranquillo camperò il padre della bambina risponde fattore io credo ai sogni eppure ai santi e per questo il mio pensiero mi dice che qualche cosa tu la saprai della mia bambina perché tu non sei mai venuto a domandarmi a comportarmi della perdita della mia figlia ma il fattore come di bruschi si alza e dice andate, andate via di qua oggi vi farò vedere io tutte queste calunnie vi farò lasciare immediatamente questa masseria così vi insegnate a parlare di fronte il fattore grazie grazie